Ciao a tutti ragazzi, io sono Zisa, benvenuti alla Zisa TV, come avete potuto vedere da qualche video o da qualche video flash, sono un appassionato di giochi da tavolo, il mio lato nerd, e prima la rubrica si chiamava Robbe da nerd, adesso la chiamerò Zisa Nerd. Ho preso oggi un gioco nuovissimo, uscito a marzo di quest'anno, marzo 2024, un gioco a due persone, un gioco astratto che prende ispirazione dagli scacchi, quindi un gioco di strategia, ma molto più semplice, molto più leggero, che potete portare anche a persone che non sono abituate a giocare da tavolo o abituate a giocare a scacchi. Quindi molto primaverile, quindi perfetto per questo periodo, perché si chiama, come potete vedere, A Paceful Garden. Praticamente abbiamo dei fiori, abbiamo delle farfalle, lo scopo del gioco sarà cercare di prendere più farfalle rispetto al nostro avversario. La scatola mi piace tantissimo, la grafica è stupenda, mi ricorda lo stile vittoriano di Alice in Wonderland, di Alice nel Paese delle Meraviglie, mi piace veramente tanto. Spargi serenità e dolci profumi, piantando strategicamente i tuoi fiori, che attireranno coloratissime farfalle. Goditi la loro pacifica danza in questo fresco gioco per due giocatori. Un gioco primaverile, un gioco per quando si è solo in due, un gioco leggero, un gioco veloce. Adesso vi faccio vedere il setup e andiamo a vedere come si svolge una partita a Paceful Garden. Le componenti sono un tabellone che si monta da quattro pezzi, abbiamo otto fiori viola, uno serve in caso si dovesse perdere uno, sette fiori arancioni, poi abbiamo tre farfalle montabili blu, tre farfalle montabili rosse, tre farfalle montabili gialle. Adesso vediamo come si gioca. Adesso andiamo a preparare il tabellone. Come prima cosa prendiamo le nostre farfalle, tutte insieme, facciamo cadere sul tavolo. In base alla loro posizione, noi le andremo a mettere nei cerchi più grandi senza girarle dal pallino in cui cade, perché lo scopo del gioco è raccogliere le farfalle con più pallini nel dorso, per poi sommarli e vedere chi ne ha fatti di più per arrivare alla vittoria. Quindi questa qua, questa qua, questa non ha un lato, l'aggiustiamo è caduta così. Questa va qua, 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 questa va qua e questa va qua. Ok, le farfalle sono disposte, adesso comincia il gioco. Comincia chi dei due ha visto per ultimo, quindi quello che più recentemente ha visto una farfalla. In teoria prende i fiori arancioni e comincia con quelli. Facciamo finta che io abbia visto una farfalla più recentemente rispetto all'avversario viola. Comincio con i fiori arancioni, lo scopo è seminare i fiori per attirare le farfalle. Possiamo fare tre cose durante il nostro turno. O per crescere un fiore, quindi in una zona adiescente a una farfalla, o attirare una farfalla, o raccogliere i fiori. Ovviamente, la prima cosa che facciamo è crescere un fiore. Guardo un po' i pallini, che cosa faccio? Io comincio mettendolo qua, così ho un fiore che è vicino a una farfalla con un pallino che è facile da prendere. Una da due e l'altra da tre. Lui risponde mettendo il fiore qua nel pallino adiescente alla farfalla con due pallini, con tre e con quattro. Quindi, in base alla mia mossa, lui si andrà a muovere di conseguenza. Io prendo un fiore e lo faccio crescere qua, tra quella da due, quella da tre e l'altra da quattro. Perché i pallini, come vedete, sono adiescenti a più farfalle. Si devono toccare i punti. Lui che cosa fa? Vuole continuare il giro e allora la va a piazzare qua. Come vedete, c'è una farfalla con quattro pallini e una farfalla con tre pallini. Io che cosa faccio in questo caso? La vado a posizionare... La vado a posizionare qua. La vado a posizionare qua, così me ne sono preparata anche un'altra. Volendo, potevo prendere questo da due, ma lo andremo a vedere dopo. Lui che cosa fa? Risponde prendendo un fiore e lo piazza proprio in questo punto. E allora, se io lo vado a mettere qua, comunque quella da quattro non la posso prendere. E allora mi prendo, attiro questa farfalla. La dovete mettere di lato nel verso in cui la raccogliete, perché poi dobbiamo contare i pallini. E prendo i fiori che ho usato per catturare, per attirare quella farfalla. Quindi, in questo giro la mia mossa è stata attirare la farfalla e non fai crescere un fiore. Lui, per come è disposto, il fiore lo va a mettere qui. Così, si avvicina a poter prendere la farfalla da quattro pallini. Io la vado a mettere, in questo caso, qui, per crearmi un vantaggio sull'altro fiore. Lui, giustamente, che cosa fa? Attira una farfalla. Quindi tira via i fiori. Si prende la farfalla che ha attirato e tira i fiori che ha usato. Due, tre e quattro. Adesso tocca a me. Metto il mio fiore qua, per tenermi la possibilità sia della farfalla da un pallino che quella da tre pallini. Lui, che cosa fa? La va a mettere qua. Io la vado a mettere qua. E lui la mette qua. A questo punto io prendo, attiro la farfalla con i tre pallini rossa. E mi prendo i vari, i fiori utilizzati. Lui prende il fiore e lo mette qua. Io prendo il fiore e lo metto qua. Lui, ovviamente, attira la farfalla e se la prende da tre e si ritira i fiori corrispondenti. Ovviamente io vi sto facendo un esempio da solo. In due è tutt'altra cosa. E per farvi vedere come si gioca. Io prendo il fiore e lo vado a mettere qui. Lui, lui allora, prende il suo fiore e può metterlo benissimo qua. Tanto già un fiore da quattro e uno da tre. Almeno se ne aggiudico un altro da uno e porta a casa un altro punto. Vediamo se sta stabile. Sì, ci siamo riusciti. Io cosa faccio? Allora, vado a mettere il mio fiore qua e lui attira la farfalla. Quindi si prende la farfalla e toglie il fiore. La combinazione dei colori che ha fatto non è casuale. Poi l'andremo a vedere quando andremo a contare i punti per la vittoria. Io anche attiro la farfalla, quindi levo uno, due e tre e mi prendo questa con tre. Adesso tocca a lui. Lui ha già un fiore là e va a mettere un altro fiore qua. Io rispondo mettendo un fiore qua e lui di tutta risposta va a mettere un fiore qua. Io vado a mettere un fiore qua. Lui lo mette qua. Lui lo mette qua. Non si possono fare due mosse in un giro, quindi o fate crescere il fiore o attirate la farfalla o raccogliete i fiori. Come si raccolgono i fiori poi ve lo faccio vedere, ma in questo caso non si può fare perché per raccogliere i fiori si devono trovare in posti in cui non ci sono più farfalle. Quindi se voi avete esaminato qua, io raccolgo questa, quei fiori vi rimangono là e allora in quel caso potete andare a raccoglierli. Io prendo il mio fiore e lo vado a mettere qua e lui adesso attira la farfalla. Se la porta qua e toglie i suoi fiori. Io faccio la stessa cosa, attiro questa farfalla con tre pallini e mi ritiro i tre fiori. Mi ritiro i tre fiori, l'ultima mossa è la sua, è rimasta una farfalla con un pallino, lui il fiore ce l'ha adiacente, quindi si attira l'ultima farfalla e la partita è finita. Adesso si passa al conteggio dei punti. Come si contano i punti? I punti si contano sommando i pallini che ci sono nel lato delle ali delle farfalle raccolte più le combinazioni che trovate scritte nel tabellone. E cioè due farfalle gialle sono due punti, due farfalle blu sono tre punti, due farfalle rosse sono quattro punti. Una combinazione di tre farfalle di colore diverso fa tre punti, quindi il viola ha tre pallini qua, più quattro qua fa sette, più tre qua fa dieci, più uno fa undici, più uno fa dodici. Ma andiamo a vedere le combinazioni. Ha due rossi, e quindi quattro punti, dodici e quattro sedici, due gialli, e quindi sedici e due diciotto, una tris di colori diversi, cioè un giallo, un blu e un rosso, perché le stesse farfalle le potete usare per fare anche altre combinazioni, e siamo a ventuno. Quindi il viola ha fatto ventuno. Vediamo quanti punti ho fatto io all'arancione. Tre più tre fa sei, più tre fa nove, più due fa undici, undici più due blu, undici e tre quattordici, più una combinazione di tre colori diversi, quattordici e tre diciassette. Il viola ha vinto la partita. In questo gioco si può finire anche pari, come se una farfalla, per esempio, a quattro è circondata da tre fiori viola e tre fiori blu, e capita un po' come lo stallo negli scacchi. In questa situazione, avendo tre viola, tre arancioni, nessuno dei due può mettere un quarto fiore che servirebbe per prendere la farfalla, la farfalla rimane lì. Questa è una situazione di stallo, questa nel tabellone è una situazione di parità, e si contano soltanto i pallini che si hanno, quindi non si può andare avanti. Se anche contando i pallini e le combo si finisce pari, la partita finisce pari. Facciamo finta che quella farfalla sarebbe rimasta incastrata, il punteggio cambia, perché uno e uno fa due, e tre fa cinque, e tre fa otto. La combinazione sarebbe due punti di giallo, otto e due, dieci, e il tris, dieci e tre, tredici. Mentre, in questo caso, l'arancione avrebbe fatto tre, sei, nove, undici, più una tris di colore diverso, undici e tre, quattordici, più tre punti di blu, quattordici e tre, diciassette. Quindi, in una situazione del genere, avrebbe vinto l'arancione. Come avete potuto vedere, come meccaniche, è molto strategico, però molto veloce. Una partita dura dieci, quindici minuti, anche cinque, in base alla strategia dei giocatori, quanto sono allo stesso livello. È veloce, è divertente, è semplice da imparare, è semplice da giocare. Diciamo che è una versione semplificata degli scacchi, quindi se vi piace giocare a scacchi, sicuramente lo troverete divertente. Ripeto, è un gioco che io vi consiglio, perché non sempre si è in compagnia di tanti amici. Se siete a casa solo voi, la vostra ragazza, la vostra moglie, voi siete con i vostri figli, siete solo in due a casa e avete voglia di giocare, questo qua vi farà divertire. Un gioco che consiglio, questa è la prima volta che vi porto un gioco, vi faccio vedere il setup completo e vi faccio vedere come si gioca. Lo farò piano piano con tutti gli altri giochi, semplicemente volevo partire da questo che è l'ultimo acquistato ed è, diciamo, il più semplice anche da spiegare. Ragazzi, detto questo, se sono stato chiaro, se sono stato esaustivo, se la spiegazione vi è piaciuta, mettete mi piace, commentate, fatemi sapere se lo conoscete, se anche a voi piace giocare con i giochi da tavola. Iscrivetevi alla ZisaTV per seguire anche i video di questa rubrica che adesso si chiamerà ZisaNerd e noi ci vediamo al prossimo video.